Allora, io devo un particolare ringraziamento a una mia sostenitrice, che è la mamma dell'antennista, del capo delle televisioni, dell'aggiustatore delle antenne, Davide Torboli, signora Gianna Torboli, mi rivolgo a lei e la ringrazio perché tutte le volte che mi incontra la mi fa i complimenti e allora credo anche a lei per cui sono ancora qui, anche per lei. Allora donna Gianna mi ascolti, a proposito, la mia pia è ancora la casa della Sacra Famiglia e allora se qualcuno per caso dovesse passare alla Sacra Famiglia chieda della pia quella raccomandata dal Tamanini. Eh, la mia raccomandata perché se no, se uno non è raccomandato non si va. Veniamo a noi. Allora, siamo di fronte alle future elezioni del 2018, tutti preoccupati di vedere chi sarà il partito, eccetera, eccetera, eccetera. Mille idee alla Goe, ho un'idea molto chiara e molto precisa. Non si può andare avanti i divisi in questa maniera. È il PAT che dice il Trentino, l'UPT unione per il Trentino, quell'altro i civici l'unione per il Trentino. Esode sto passo. Signori cari, signori cari, sedetevi a un tavolo, chiudete le porte, guardatevi in faccia e pensate a quello che volete che il Trentino sia, rimanga e diventi, soprattutto diventi. Una visione futura non si può andare avanti con quei quattro uomini che qua in giro. mi spiace per voi, mi spiace per voi. L'abbiamo detto nella trasmissione passata che ci vogliono uomini, uomini. Allora quelli che hanno delle capacità facciano pressione affinché si faccia un unico partito come in Alto Adige la City Roller for Spartae ha fatto votare sì, ragazzi, sì al referendum la City Roller for Spartae e non come da noi che uno diceva A, quell'altro diceva B, eccetera, 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 senza sapere su che cosa votavano in Alto Adige. Lo sapeva benissimo perché la City Roller for Spartae è un partito unico. Noi dovremmo avere o l'UPT o il PAT o non so che cosa, ma non possiamo andare avanti separati in questa maniera. Qui manca l'uomo che vorrebbe il Kessler di turno, ragazzi, che vorrebbe il Kessler di turno o ci vorrebbe il De Gasperi di turno o colui il quale è in grado di unire tutti questi partiti, sederli in tavolo, serare le porte, buttarvi alla chiave e finché non vi è fuori tutti d'accordo non si mangia e non si beve. Io credo che un partito unico nel Trentino sia la terapia migliore per poter garantire ancora la nostra autonomia, se no la nostra autonomia la farà alla fine degli ospedali, che inarà tutti su per il cabino. Pace e bene, è il disegno a quell'altro, mi pare. C'era un frate che dice pace e bene, io dico, lui dice pace e bene a tutti, in questo momento pace e bene con riserva. Saluti. Padre Mariano?